Quando c'erano i più giorni, gli zemi si fa a mignola e quella battana. Contate un po' come c'era quella volta e dopo come pian piano, con il gusto, con la battana. Come c'era quella volta, ti c'erano due o tre quintali di mignola al giorno, con i tempi là, adesso ti c'erano due o tre quintali in tre mesi, questo di qui gira un po' come mezzo l'anno e gira sicuro, adesso più non si è buono, ma da tutti i pizzi si va montando, anno in anno anche quelle nasce qua l'anno in Rio e ci appendi, da pizzi buoni 10 kg, adesso i cento giorni 10 kg. Ti vedi, di 35 anni che vado in mare è sempre, anno in anno, sempre meno, meno, va montando. A presto, a presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto, a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.